Di sicuro non mancheranno gli spunti di interesse nel libro che presto sarà possibile acquistare e che narra le vicende legate al crack di Banca Etruria. Scriverlo, un diretto protagonista di questa storia travagliata e triste al tempo stesso. L'ex direttore generale Alfredo Berli, uno di quelli che è finito sull'agonia mediatica e che alla fine ha conosciuto una significativa soluzione nel filone legato proprio alla bancarotta. Nella prima parte il libro parlerà della storia della banca retina dalle origini fino al 2008. Berli ha scalato tutti i gradini della gerarchia interna e conosce i segreti di via Calamandrei. Nella seconda parte si parlerà della crisi che ha portato allo stato di insolvenza con tutto quello che ne è derivato. Per Berli dietro c'è stato un disegno politico fatto ad arte visto che questa banca poteva essere salvata e nessuno ha mosso un dito per farlo.